Ci puoi spiegare che cos'è questo virus intanto? Allora, il virus che è stato ritrovato nel gatto appunto morto via d'Arezzo, a parte ancora noi non sappiamo di preciso la tipizzazione, però sembra essere un virus appartenente appunto al genere dell'Issavirus, che sono un insieme di virus del quale appartiene anche il virus dell'Arabia classico. Questo non è quel tipo di virus lì specifico, è un virus, sembra, ripeto, essere un virus appartenente ai pipistrelli. In letteratura sono stati riportati casi di questa tipologia di virus che hanno contagiato anche in particolare animali da reddito come le pecore e anche alcuni rarissimi casi di contagio nell'uomo. È un virus che vive nella popolazione dei pipistrelli e i pipistrelli sono dei portatori sani quasi sempre, quindi non si ammalano del virus, si possono ammalare solo in caso di deficit immunologico, quindi alcuni animali malati per altre patologie oppure le femmine gravide a volte sembra che possano poi sviluppare proprio la malattia. Il metodo di contagio è lo stesso del virus classico dell'Arabia attraverso la saliva, quindi la via di trasmissione classica è il morso, perché il virus viene eliminato con la saliva, quindi l'animale infetto ha il virus nella saliva e la saliva deve entrare in contatto con sangue o comunque con mucose, quindi il morso, il graffio, la forma classica, poi ci sono quelle meno, molto meno probabili del leccamento, del venire a contatto con la saliva, con le mucose del naso e degli occhi, ma insomma entrare a contatto con un pipistrello già è rarissimo, in più entrare a contatto con la saliva e le pipistrelle è ancora più raro. È logico che con il gatto è più semplice. I sintomi sono quelli della rabbia, in sostanza la sintomatologia è simile, quindi negli animali i sintomi principali sono neurologici, quindi animali che possono diventare improvvisamente aggressivi oppure fobici e poi insorgono i sintomi più gravi, neurologici, come può essere la paralisi, il coma, c'è il rialzo termico, quindi febbre, fino poi alla morte. Nell'uomo la sintomatologia è più o meno simile, quindi coinvolge sempre il sistema nervoso principalmente, e c'è il famoso segno dell'idrofobia che nasce solo dal fatto che il deficit neurologico è talmente importante che l'uomo non riesce a bere, quindi ha sete ma non riesce a bere e quindi questo poi ha dato origine al cosiddetto sintomo dell'idrofobia. Purtroppo è una malattia, è un virus anche questo qui che ha quasi sempre esito mortale e l'unica cosa è appunto riuscire a fare una prevenzione prima. Ora sembra che i vaccini classici che abbiamo per la rabbia, quindi per il virus della rabbia classico, possano avere anche una certa efficacia anche contro questo virus. Però noi siamo tutti attendendo le direttive del ministero, della sveterinaria, perché non so cosa decideranno, siamo tutti in attesa di sapere cosa dobbiamo fare. Nel momento stanno ovviamente cercando di tamponare questo singolo focolaio e circoscriverlo, però poi quale sarà il comportamento nei prossimi mesi ce lo devono dire loro. Secondo lei uno degli scenari probabili è che possano decidere di vaccinare tutti gli animali sul territorio nazionale? Ora ripeto, è presto per dirlo. Di solito quando ci sono i focolai partono delle campagne di vaccinazione, quindi di solito il comportamento è questo. Nel 2013 quando venne fuori il focolaio nel Friuli Venezia Giulia fecero una campagna di vaccinazione non a livello nazionale nel Friuli Venezia Giulia, regionale. Come si comporteranno ora? Ripeto, un'ipotesi è quella. Però ripeto, questo è un virus leggermente diverso, quindi bisogna anche capire se effettivamente vaccinare, sembra di sì, sia veramente efficace.